I chioscai sono arrivati a scendere addirittura in piazza per rivendicare i propri diritti e per chiedere al comune che cosa esattamente? Che cosa che non si deve andare in bando, perché è un nostro diritto avere un posto di lavoro che ci sia costruito noi. È un diritto, è scritto sulla Costituzione italiana che ogni cittadino deve avere un posto di lavoro. Noi ce lo siamo costruiti noi, pagando dei mutui, pagando dei soldi e nessuno ce lo può togliere. Abbiamo diritto anche noi a lavorare. Oggi abbiamo perso per fare questa manifestazione mensaggiornata di lavoro. Ecco, il comune vuole mettere al bando la vostra concessione? Sì, esatto. Del suolo pubblico, perché il chiosco è nostro. Quindi voi avete un chiosco sul suolo pubblico? Che paghiamo pure lisci. Pagate il canone per l'occupazione del suolo pubblico, però in realtà non c'è una concessione, cioè è scaduta la concessione. È scaduta, addirittura io non ce l'ho mai avuta. Il comune non si era mai accorto che era scaduta la concessione, ma continuava a riscuotere il canone. Esatto. Adesso si sono accorti di questo problema e dicono il suolo pubblico, l'occupazione, la mettiamo in bando. Facciamo un bando. Quindi c'è qualcuno di voi che ha investito anche parecchi soldi in questa attività e rischia di perderla senza averli neanche recuperati lontanamente. È così? È corretto? Addirittura c'è gente che con lavoro si paga il mutuo della casa, invece qui funziona all'incontrario. Per avere un posto di lavoro si è ipotecato la casa, che è diverso. Vuol dire che tirando la somma se perde il posto di lavoro non può pagare il mutuo del chiosco e perde pure la casa. Quanti siete in questa situazione, in queste condizioni? Siamo 34. Con alcuni che hanno addirittura una concessione scaduta da diversi anni. Da 1998. Il comune lo sa, il comune lo sa. Quindi voi ritenete il comune colpevole di che cosa? Colpevole di non avere fatto le concessioni del suolo pubblico, di non avere firmato le concessioni del suolo pubblico. Perché adesso tutto questo si sta ripercutendo su di voi? Su di noi, esatto. E rischiate, quindi con il bando di doverlo perdere? Di perdere il posto di lavoro. Non di perdere, di perdere il posto di lavoro, è importante il posto di lavoro.